Amici di Padre Pio TV, bentornati nel nostro spazio salute che cercherà in questa settimana di farvi conoscere una particolare possibilità per le donne che devono partorire. Potremmo definire il titolo di questa puntata con una sola parola, partoanalgesia, analgesia, ma che cosa significa? Significa di fatto parto senza dolore ed è una possibilità che trova pratica attuazione a casa sulleva della sofferenza ed è qui con noi in studio per parlarcene il responsabile, l'anestesista responsabile del servizio di partoanalgesia presso casa sulleva della sofferenza, il dottor Pasquale Vaira. Bentornato fra noi. Grazie direttore, grazie per l'invito che mi ha fatto. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, al di là della definizione da vocabolario che ho dato io, può spiegarci in che cosa consiste la partoanalgesia? Sì, insomma, parliamo di analgesia ostetrica che è un campo molto nuovo nell'ambito della medicina e praticamente è un blocco che viene fatto a livello delle fibre nervose che innervano la zona uterina e quindi tutta la parte che riguarda il parto e aiutano moltissimo la donna ad avere una nascita, a vivere una nascita in maniera molto serena, tranquilla. Andiamo a ridurre il dolore bloccando alcune fibre nervose sensitive, naturalmente lasciando integre quelle motorie che poi serviranno per l'espletamento del parto. Ecco, e come si fa a bloccare in maniera così selettiva solo le fibre motorie, cioè quelle che dalla periferia trasmettono le sensazioni, compreso il dolore, alla parte centrale, cioè al cervello, lasciando poi, visto che convivono, vivono vicine l'une all'altra, le fibre che invece sono motorie o le fibre che trasmettono altre sensazioni rispetto a quelle del dolore? Beh, guardi, non mi dilungherò in aspetti tecnici perché insomma sarebbe difficile, ma noi andiamo a fare un blocco neuroassiale, un blocco neuroassiale in spino peridurale che significa praticamente andare a iniettare degli anestetici in dosaggio naturalmente controllato in una zona particolare da dove dipartono queste fibre. In questa maniera noi controlliamo il dolore, ma poi, poiché le fibre motorie si trovano in una posizione particolare, non andiamo a bloccare selettivamente le fibre motorie. Quindi si fa, si pratica un'iniezione dove a livello, ecco, abbiamo anche un'idea positiva a livello della colonna? Sì, sì, noi in genere andiamo in una posizione che è un po' più alta delle crestilie, che è le 3 e le 4, come praticamente in quella colonna si può vedere. Ecco, qui stiamo vedendo anche. Poi, ago nel lago, facciamo prima una puntura della dura, della dura madre, che sarebbe una zona particolare, quindi inseriamo un cateterino col quale poi seguiremo tutto il parto. Da profano mi viene da pensare, non è dolorosa la puntura? Cioè non c'è il rischio che per evitare un dolore se ne senti un altro, cioè quello della puntura anestetica? Assolutamente no, perché noi comunque facciamo un blocco iniziale, facciamo dei ponfi di anestetico, praticamente poi alla fine si tratta di un ago piccolo che andiamo ad introdurre in una zona che abbiamo reso non sensibile, quindi non si sente nessun dolore assolutamente. Sa, questa è una cosa che molte donne, ma dottore non mi faccia male, la prego, noi le tranquillizziamo perché insomma sicuramente, prima di tutto, noi come mentalità contra dolore è il nostro motto come anestesisti rianimatori, ma poi ad un certo punto non potremmo pensare di togliere un dolore e di darne un altro, no? È una procedura tranquilla in mani esperte che diventa banale se c'è un expertise, perché è logico che bisogna essere degli anestesisti esperti, meglio se si è esperti in campo analgo anestesia ostetrica, perché naturalmente parliamo di un campo delicatissimo dove le problematiche all'improvviso sorgono. Io lo dico sempre a tutti i colleghi, in ostetricia tutto è fisiologico e nulla è fisiologico, per cui bisogna stare davvero molto attenti, ma se si ha un expertise, se si ha una buona padronanza della materia diventa tutto molto tranquillo e si va verso momenti felici davvero. Quando si può praticare la partoanalgesia? Beh, sicuramente bisogna che il travaglio sia iniziato, il travaglio deve essere iniziato, poi naturalmente noi usiamo delle scale particolari, delle scale che praticamente ci guidano nell'ambito della ricerca del momento opportuno. In queste scale siamo guidati molto dai nostri colleghi ostetrici ginecologi e dalle dottoresse ostetriche che naturalmente ci informano attimo per attimo di come procede un determinato travaglio o di come procede un parto per il quale abbiamo individuato la tecnica. Ma questa pratica è possibile per tutte le donne che devono partorire oppure ci sono delle indicazioni particolari o delle esclusioni particolari? Cioè quelle che non lo possono fare, per esempio. L'indicazione principale io affermo sempre che è quella di perché non farla. Certo, 2000 anni fa non veniva fatta, la genesi parlava di partorire con dolore, però diciamo 2000 anni fa le donne vivevano 30 anni, la vita media era bassissima e partorivano a 15 anni. Oggi come oggi la mentalità è cambiata, le donne sono proiettate. E' cambiata anche la società, per esempio. E' cambiata la società. Oggi si partorisce anche a 40, 42. Certo, beh io ho visto anche un parto di una 52enne. Ah ecco. Per cui ad un certo punto dico tutto può essere, però soprattutto evitare il dolore, perché diceva Cartesio che il dolore è la spia che avverte l'anima che qualcosa non funziona. E' naturalmente il dolore che innesta una serie di problematiche, per entrare in un campo banalmente tecnico, ma non approfondisco. Le catecolamine che per esempio danno una sofferenza cardiaca, perché il dolore innesta una cascata di catecolamine, il cuore va in fatica, va in tachicardia, ma non solo. Dall'altra parte il bambino subisce una vasocostrizione per queste catecolamine e anche per lui c'è una sofferenza. Per cui combattere il dolore è l'ideale nell'ambito di un parto e noi personalmente come gruppo ostetrico lo consigliamo vivamente alle nostre partorienti. Quindi va consigliato a tutte, ma ci sono alcune categorie di norma che potranno... Ci sono chiaramente delle controindicazioni assolute o relative di esclusione della popolazione. E' chiaro che ci sono delle pazienti che hanno semmai, per esempio, barrato la colonna per una scoliosi pregressa. Allora è chiaro che, insomma, in quei casi diventa problematico trattarle oppure pazienti con coagulopatie conosciute. Voglio dire, c'è un'esclusione, ma è un'esclusione limitata a pochissimi soggetti. Quindi l'80-90% delle donne possono farla e la possono fare in assoluta sicurezza. Torniamo un attimo a sfogliare il nostro vocabolario con cui abbiamo iniziato la trasmissione. Noi stiamo parlando di parto analgesia, lo stiamo facendo con un anestesista rianimatore. Tra analgesia e anestesia c'è una differenza di significato o sono due sinonimi? Beh, è abissale, insomma. L'analgesia è un blocco limitato di alcune sensibilità. L'anestesia è un blocco totale, cioè noi oltre a un blocco sensitivo abbiamo un blocco motorio con l'anestesia vera e propria. Per cui, insomma, andiamo in un campo molto più approfondito, ma non potremmo fare un'anestesia, perché noi con l'anestesia facciamo poi il taglio cesareo. Dove non c'è collaborazione della donna nell'esplicitamento della donna. No, noi lo facciamo sempre con un blocco neurassiale, utilizzando la stessa via del parto indolore. Ma diamo dosaggi che sono molto maggiori, che sono molto diversi, per cui togliamo completamente ogni sensibilità e ogni motricità in modo da poter permettere un intervento chirurgico vero e proprio. Se facessimo questo con l'analgesia ostetrica, bloccheremmo naturalmente il parto. Ecco, sono due cose completamente differenti. Diciamo che è una procedura successiva, nell'eventualità un parto evolva verso un taglio cesareo. Per fare un parto senza dolore, quali figure professionali servono, oltre a quelle prettamente legate al parto, quindi gli ostetrici, i ginecologi, e oltre ad un anestesista di animatore. Beh, guardi, le posso dire che l'equip deve essere formata e strutturata. Naturalmente, oltre noi, ci vogliono le ostetriche, che sono il nostro occhio uterino, chiamiamola così, perché loro praticamente ci seguono nei dettagli e praticamente ci guidano nella sequenza logica di un travaglio. Ci vogliono i medici ostetrici, i quali ad un certo punto devono intervenire qualora ci siano delle complicazioni, oppure dei blocchi delle situazioni particolari. Ci vogliono i neonatologi che poi prendano il bambino per poterlo assistere alla nascita. Insomma, ci sono una serie di figure. In genere, guardi, ora, come ora, noi stiamo avendo degli input sull'expertise, perché la regione Puglia, che è una delle regioni più attente in campo ostetico-ginecologico, le devo dire, infatti ci arrivano notizie confortanti da parte di tutta l'Europa. Devo fare i complimenti ai nostri politici che hanno realmente capito l'importanza di dare dignità alla nascita. Oramai noi siamo chiamati ad essere degli esperti e addirittura si richiede agli ospedali maggiori. E in questo devo dire che il nostro, che è ben guidato sia dai direttori generali, sia dai direttori sanitari, sia da coloro che, insomma, gestiscono un po' il potere sanitario dell'ospedale, oramai la regione chiede espressamente un perfezionamento. Ecco perché, per esempio, vengono chiesti personale dedicato. Siamo ancora a Spazio Salute e stiamo parlando del parto senza dolore con il dottor Pasquale Vaira, che è il responsabile del servizio di parto analgesia presso Casa Sollievo della Sofferenza. E poco fa stavamo parlando della necessità di una specializzazione proprio specifica, di una expertise per creare le condizioni idonee attraverso un'equipe idonea per svolgere al meglio questo servizio alle donne che devono partorire. Questo significa, per capire meglio, visto che siamo stati poi interrotti dalla pubblicità, che ci devono essere medici dedicati proprio a questo tipo di servizio di parto analgesia? Beh sì, questo in realtà, direttore, ce lo chiede l'Europa, perché l'Europa, che è partita un po' di tempo prima, e con la quale noi abbiamo dei rapporti, Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, cioè, diciamo, paesi che hanno già una tradizione di analgesia ostetrica avanzata, beh, insomma, hanno sempre affermato che l'anestesia ostetrica è una particolare branca che va effettuata solamente da personale esperto, dove le politiche sanitarie devono investire, perché altrimenti, insomma, si corre il rischio di dedicare gente che non ha una grossa capacità tecnica, determinata dal fatto che non fa tanta specialità in questo tipo di lavoro. E, naturalmente, questo comporta poi una diminuzione della sicurezza per quanto riguarda la donna che deve partorire. Per cui, questa è una cosa che oramai la Regione ci chiede a gran voce. La nostra direzione sanitaria ha recepito, chiaramente, noi poi siamo un ospedale con la tripla H, che vuol dire alta dedizione nei confronti della donna e di tutte le sue problematiche, per cui, chiaramente, è stata recepita, per cui la direzione sanitaria ci ha chiamato, chiedendoci di formare un gruppo dedicato. E, naturalmente, questo è in itinere, ma partirà a breve. E questo gruppo dedicato ha organizzato anche, e questo è testimonianza della valenza internazionale dell'argomento e quindi dell'attenzione che l'Europa già da tempo sta dedicando, un congresso internazionale, proprio a Casa Sollievo, dal 9 all'11 novembre scorso, quindi pochi giorni fa, una tre giorni materno-infantile. Sentiamo in proposito uno degli organizzatori, un collega, un collaboratore del dottor Vaira, cioè il dottor Mauro Bentivogli. Ascoltiamo. Noi siamo al quarto congresso della Società Italiana di Parto Analgesia e svolgiamo questa attività da ormai cinque anni. A giugno abbiamo fatto cinque anni di parto analgesia in Casa Sollievo, un'attività fortemente voluta dalla nostra dirigenza che ci ha portato a superare i 2.500 parti, ormai circa 500 parti all'anno. È un'attività che svolgiamo 24 ore su 24, quindi un'opportunità che il nostro ospedale ha voluto offrire alle partorienti della nostra provincia e non solo. È un'attività che svolgiamo con entusiasmo, con molta partecipazione, anche perché riteniamo che in un'ottica di sempre maggiore servizio alla nostra utenza sia un fiore all'occhiello della nostra struttura. Anche se abbiamo dovuto superare un po' di resistenza anche da parte della popolazione che non sempre vede la parto analgesia come un'opportunità di miglioramento dell'assistenza. È capitato qualche volta che qualche signora non ha voluto farla o non la vuole fare, lasciamo in questo la massima libertà proprio perché non vogliamo interferire in nessuna fase con l'evento nascita. Però siamo contenti di questa nostra attività. Per noi anestesisti è stato anche un allargamento delle nostre conoscenze culturali e scientifiche e la popolazione sta accogliendo, penso, con favore sempre crescente questa situazione che siamo riusciti a far partire. La parto analgesia è comunque una tecnica assolutamente sicura, priva di problemi di gravità proprio perché fa parte del bagaglio culturale di ogni anestesista e questa è la tecnica fondamentale che è l'anestesia epidurale, in questo caso analgesia. Riusciamo a soddisfare queste richieste nell'ambito delle 24 ore e pensiamo, in un'ottica futura, di poter avere una maggiore presa sul territorio anche grazie ai corsi di accompagnamento alla nascita che svolgiamo in collaborazione con la scuola di ostetricia delle nostre ostetiche qui a San Giovanni Rotondo, in collaborazione con i nostri colleghi ginecologi. Noi siamo entrati in questo lavoro in punta di piedi cercando di collaborare e di avvicinarci silenziosamente all'attività già della sala parto. Dottor Vaira, abbiamo sentito il suo collega il dottor Bentivogli dire che spesso proponete il parto in dolore alle donne e qualche volta vi sentite rispondere con un rifiuto. Nell'ottica di una razionalità funzionante come mai si riesce a rifiutare qualcosa che tolga il dolore? Sì, infatti la sua domanda è logica. Esiste un retaggio storico-culturale che purtroppo ha bisogno di tempo. Tenga presente che la donna arriva al parto con l'idea di viverlo fino in fondo. Motivo per il quale noi il 50% dei parti lo riusciamo a fare in analgesia e il 50% dei parti non lo facciamo in analgesia perché i nostri numeri sono sui 1.200-1.300 parti l'anno. Naturalmente il 50% riusciamo a farlo in analgesia perché noi proponiamo e logicamente le donne che hanno una logica più propositiva l'accettano e poi ci ringraziano, ci benedicono. Io ho avuto addirittura una signora che praticamente ogni volta che mi incontra mi vuole abbracciare. Non c'è il marito accanto. No, vabbè. Troppo giovane. Per cui ad un certo punto mi rendo conto che a volte è anche questa mentalità un po' chiusa che impedisce alle donne di vivere il proprio parto in maniera serena. Perché guardi, io spesso dico alle signore che vediamo in prericovero portatevi un libro, portatevi le cuffiette per ascoltare la musica. Il vostro parto sarà così naturale e così bello che voi avrete un ricordo meraviglioso. Il dolore non è stato inventato da Dio. Cioè voglio dire, Dio è un essere troppo perfetto per poter scegliere un campo così estremo. Per cui ad un certo punto benvenga la medicina che col tempo riesce a togliere quello che è una sensazione sgradevole per un evento così bello. Qual è la nascita? E abbiamo detto già, l'abbiamo accennato in maniera rapida, quali sono i benefici fisici, psicologici del parto in dolore ma c'è anche una valenza sociale. Per esempio, ma la butto lì veramente quasi come modo per capire quello che può stare dietro un parto in dolore, anche la voglia di riprovarci ad avere un figlio senza stare col terrore di dover soffrire di nuovo e quindi di aumentare la natalità in un occidente con un indice di natalità molto basso è un altro dei vantaggi. Quali altri vantaggi sociali per esempio ci possono essere? Le posso dire, ecco lei mi fa una domanda molto interessante oltretutto neanche, non ne avevamo proprio discusso di questo argomento. Allora, le posso dire che molte donne rinunciano ad una seconda gravidanza perché hanno praticamente avuto un parto difficile un momento difficile. Altre donne invece, avendo vissuto una bellissima esperienza di parto con la parto analgesia sono molto più propositive in questo senso per cui certamente aiuta molto e oltretutto aiuta anche a ridurre i tagli cesarei potremmo parlare a lungo ma insomma, voglio dire, è sicuramente una fase innovativa della medicina in questo senso. E noi ci auguriamo che con questa trasmissione abbiamo potuto dare un contributo a scrostare quei retaggi di una cultura non cultura e aiutato a capire alle donne che si può partorire senza soffrire in maniera naturale. grazie per l'attenzione grazie a Dottor Vaila grazie a Dottor Vaila Grazie a tutti